Let's go Lettia Baldacchino, welcome back to the Power Today Channel Comunque, come avete visto già dal titolo, questo video è una sorta di trailer è una sorta di pezzi più divertenti delle partite che abbiamo giocato assieme a Jumbodrillo, Joe e Brat sono tre youtuber, sono tre youtuber di sniping, di trickshot, di Oce e Montage per chi non sa come sono gli Oce e Montage, sono comunque delle clip editate in questo caso da loro o da editor famosi sono bravissimi a giocare col cecchino ragazzi, fanno anche video divertenti quindi non solo video con il cecchino quindi vi consiglio di passare sul loro canale ma voglio lasciarvi a questo trailer e spiegarvi a fine video che cosa significa questo video e quale sarà il programma futuro con questi ragazzi Let's go Oppure facciamo una cosa raga, io c'ho dei miei amici che riescono a buttare fra le persone nooo, nooo, le tattiche le tattiche darton vabbè Brat e te è indifferente tanto non ci arriverei mai a una serie no esatto hai niente ci arriverà invece, coglione no raga, no aiuto aiuto se ne resi zumbo no no no, no giubbo, no vai Brat, vai vai si prenditi psicosi o... te, 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 te ognuno guardi un punto, io guardo il centro ma... anzi no, io guardo il lato destro io guardo sinistra, io sinistra io guardo il destro, qualcuno guarda il centro, oppure in due potete starci guardo io con lo sniper io guardo Brat ma giubbo mi sei attaccato al cazzo ho paura, non so che cazzo ce n'è uno sopra ok l'ho visto, no allora ragazzi, c'è uno qua alla mia sinistra dobbiamo fare tipo che uno lo beta, tipo faccio così ecco, è sopra la macchina, lo vedete? eccolo no, oh dio hai scappato dietro non dobbiamo fare io l'esca che sono più inutile la sto plantando, eh, su B state là così, bravi ce l'avete tutti da là, una mi è andata a uccidere ora la bomba è stata... non dirla così, però eh sì se mori te... l'obiettivo non è che sta alla bomba è difendere Paule lui l'ho preso ok ragazzi no, ce l'ho dietro devi aiutarmi, devi aiutarmi bravo fatto, fatto, fatto sul carico, sul carico bravo oddio no, no sono i video, sto andando su B stanno subito ma penso ce l'hai sotto forse, eh, Paule stessa che poi è la destra, coglioni poi è la destra, esatto sono in perventilazione, ragazzi devo sentire i rumori, raga dove è il vento? ecco lo roppo, let's go baby, go shit andiamo, cazzo bravi raga, come fuga di merda, brate guardate così, ragazzi bravi comunque, mi avete seguito? mi avete seguito, gioia pure fatto il trade bravi raga bait and switch, proprio bait and switch grazie, tutto merito mio eh, ho sbagliato questa cosa scusate, non dovevo, dovevo subito dire andiamo tutti assieme, stiamo vicini e via io no, 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 Paule, mi dà fastidio questa cosa se ho giochi bene, non giochiamo, ok? dai, 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 cazzo, dai ok, sono tutti sono tutti sono tutti sono tutti sono tutti subito occhio di qua, occhio, occhio, occhio stunna con i cancri eccolo oddio oh, fuggone vabbè nella macchina no, ma giù va oh, vabbè, lei ha visto ho visto anche lui e cosa sta sparando ah no, cazzo sono entrato in panico peccato, peccato due sopra, due sopra, brazzo no, vabbè tre sopra, tre sopra, tre sopra, giù tre sopra un altro, un altro scappa, bravo è di sotto? ti sei buttato dietro? bravo, guardalo, giù sono, sono stato creato per questa cosa io si è buttato sotto eccolo oh, no no capito che nel competitive abbiamo una carriera abbastanza corta noi abbiamo scoperto come si fa 5 contro 3 su arena cioè su game battle allora, giocate che un bratt eh, vediamo se posso fare però, ricordati che ci abbiamo un bratti squadra ma è bratt che lancia oggi me lo sento, bratt mi sto affidando di te, eh mi scappone di tiro dai, mi fia di te, bratt bam ok, cdp, se cosa vuol dire bratt difesa nooo, rotto ok, ok quindi dobbiamo vencerla no, no, no meno soldi per power vai, vai gg non è allora, vai, vai, vai tutti i middle, rea tutti i middle preso, preso da un altro bravissimo vai, 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 vai bravi, bravi continuate, un altro ancora c'è un altro ancora no, non vi sparate addosso ancora no, non vi sparate addosso tra di voi nooo c'hai detto una casa c'hai detto una casa è giù, mi è venuta addosso no ah, vai uno, mi, uno nooo il bratt, ragazzi, era on fire, eh il bratt era on fire si, bratt, come sei, beh voi mi spieghi come hai fatto a salire la sola ragazzi non lo so, ho sbagliato ragazzi, vi ho visto ma c'è chi era che stava sparando al suo compagno ero io ero io, e il jumbo non mi sta tanto simpatico ultimamente no, raga, vedete c'eramo vicini vabbè, così che dobbiamo giocare vai, vai, vai stiamo giocando molto tattici però, eh se c'è i dietro che ha pure ok, c'è una la sottoterra come parla orco di dove era sopra, c'è proprio e non è neanche visto te lo giuro tritato si, vai jumbo stiamo guardando tutti quanti jumbo, tutta la squadra ti sta guardando no, ragazzi c'è tutto il canale di power c'è tutto fatto c'è tutto vai oh, giumbo non sa cosa fa guarda il cibo c'è quasi un battente oh, giove 0,4 voi vi darei prima e vorrei sentirmi un po' come un ragazzo che ha un cronostro mi piace nell'angolo vai 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 no 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 ma ci ha distrutto quello là dentro la casetta c'è un metro peso hcxi corri scappa mi faccio prendere ti salverò bravo peso me fringi dovremmo dirgli tipo gg allora no gli devi dire figli di puttana mannaggia a voi alla vostra madre morta torna su cs gli scrivi bravo ragazzi è il momento di fare le tattiche venite non sembra essere andata proprio benissimo da quello che abbiamo visto in questo trailer però non vi preoccupate non ho messo qui l'intera mappa non la voglio mettere ancora voglio aspettare un pochino e vi spiegherò come potrete vedere le intere mappe e le intere partite voglio che andate a mettere per più a cosa iscrivervi ai canali di Joe Brat e Giambodrillo fanno bei video specialmente sono particolari perché anche se fanno video divertenti nascondono in questo caso della serietà all'interno un messaggio che spero che riuscirete a capire allo stesso modo fanno delle clip paulose con il cecchino ragazzi vorrei saperle fare pure io io sono un appassionato di cecchini sindacode 4 qui con ZZ e il griz si può dire vedendo i suoi video quindi vi consiglio di passare a loro iscrivetevi ovviamente al canale e in più mettere mi piace a questo video perché se metterete mi piace a questo video ovviamente mi inciterete a mettere la mappa completa che ragazzi è fantastica fa troppo ridere ed è speciale perché è una 4POV avrete le facecam e la POV di tutti e quattro i giocatori durante questa partita su Game Battles che è una partita divertentissima e bellissima quindi vi invito a farlo e in più vi invito a fare un'altra cosa andate a rompere le palle sotto al canale di Joe Brat e ovviamente Giambodrillo andate a spammare sotto il loro canale scrivete hashtag power army andate a rompere il cazzo facciamo vedere quanti siamo facciamo vedere che la power army ha i coglioni grossi così e gli andiamo a rompere le palle let's go lette baldacchino beh ci becchiamo al prossimo video mi raccomando spolliciate questo video iscrivetevi al loro canale andatevi a rompere le palle perché fidatevi quando metterò questo video vi divertirete un sacco let's go baby andatevi a rompere le palle